l'italia bella ragazzi siamo qua sul mio canale di jackie square ci sono anche mike e katiz oggi siamo giocati il secondo video il primo era il suo denaro ma sono postati a picchiaduro perchè non so perchè io non ho mai con le 15 ci chiamo la si ci chiamo ma anche la vita reale non è vero e poi diciamo al gioco.com a contatterello posto se non se tu il primo ciclo ma sarebbe un perfetto il suo senso madonna che incisioni n in grande ricordo no c'erano se c'erano e dove finito il minuto buono con me che non è che sento bene e che oggi due per il volo testo di due spese tento per il mondo premistata la cazzo se un coglione se un coglione voglio essere un coglione sbagliato il suo livello ho partito nel caso del brusli e te albina brusli ma lì non brusli ma chi è sto sto dom un po' di ultima studio io devo ricordarmi costi e anche io dai da navi di un giovane di un gioco e posti netti non è in realtà che non c'è mai giocatore di brasilia as partiamo con il tuo nome per me dopo quella cosa ma donna vado così c'è chi incontro scusami per me il suo personale il tasto per la roba mai che ti fa il culo eh Madonna che roia, ma devi di non rompere i coglioni, porco di... Ah! Vabbè ti fa il culo Mare ti ammazzato quasi Anzi l'ho ammazzato No bastardo No vaffanculo Non vale Non vale così Non va Vaffanculo Pezzo di merda E che cazzo Io devo capire un attimo i tasti Scusa Ha vinto Broly version alieno Lo scusiamo No è bio broly quello Ma quali sono i tasti? Cazzo perchè non mi ricordo un cazzo Allora allontanatevi un attimo e guardate i tasti No 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 Tipo quello di salto Come si salta? Aspella? No no niente io ammazzato Ma porco di... Non mi non pericoglio Non mi non pericoglio Non mi non pericoglio Oh mossa finale Zuka Ciao Te lo fai Come si fa la mossa finita? Non lo so mossa cazzo di cane Ha fatta la cazzo di cane Oh Mike ma stai morendo Super Ha vinto bio broly E sei incazzato vero? Dimmi se sei incazzato Sei incazzato? Eh ci piace un altro video Dai spara ammazza Minchia ma brusoli fa veramente cagare Bastardo BAM Si vabbè ma non vuole Ma adesso non c'erano le vincite C'erano le vincite C'erano le vincite Però ho vinto io Oni wins Minchia ficcagli un pugno Si sta la ficca Ah ah no Ah ci Ah Rimini cita Dai dai Rimini cita dai Ah cambi il personaggio Ti sento lui perchè mai mi sono abituato E la prima lo vinco Ma se quando vinci tu ti fa un altro Gulli Toglielano anche ho gay Ho gay si Ho gay Ho gay Mi sono Ma porco Eh Ho fatto incazzare Ho fatto incazzare L'ho fatto incazzare Bene E allora A pa 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 un po' roba porti guarda cristo d il mio ma vedi ma tu sei il tuo non hai chiesti di cani cazzo di cani li spara cane cani tutt'olingue stranieri il botte che capisco qua e sono a posto fare di un sui niente mi spiace per te per te no non penso che ho fatto più per te ma si scherza ecco detto che non lo facevo ho confuso si russi d'ossi questo preme i tasti stanno a casa di cane che pazzesco che bello cioè ma vedi ma vedi ma come cazzo fai te lo spieghi ma che cazzo di tasti brevi io così si così e vince un'altra si può è un cuore d'oro a a a a e poi ragazzi finici così il nostro video ne facciamo poi un'altra cosa come si vuole e poi ragazzi in questo senso giochiamo io e catinella a advance warfare buca beauty dai bella aspetta cheese un'altra cosa buca Grazie a tutti